Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Consigliere, qual è la vera situazione degli elevatori nella regione di Abruzzo? Ricordiamo anche che c'è una crisi profonda che deriva dalla guerra in Ucraina. Sì, una crisi in tutti i settori economici, in maniera particolare dell'agricoltura. Ha presentato una risoluzione in Consiglio regionale per sostenere con forza la zootecnia di montagna della nostra regione. Insieme a noi lo stesso problema ce l'ha la Sardegna. Parliamo di prossima politica comunitaria, di prossimo piano di sviluppo rurale. C'è bisogno di un lavoro forte dell'Aggiunta e dell'Assessore in prudente in maniera particolare su questo settore che perderanno o rischiano di perdere incendi e risorse e possono portare queste aziende alla fine. Perché è stato importante depositarla prima del 30 giugno? Assolutamente sì, perché c'è questa fase di negoziato con l'Unione Europea attraverso il Ministero e quindi c'è bisogno di una politica forte sui tavoli ministeriali e soprattutto europei da parte dell'Assessore in prudente e del Governatore Marsilio. Quanto è importante agire per cercare di calmerare quelli che sono i prezzi attuali delle materie prime? Ma soprattutto sul caro gasolio c'è stata un'impennata forte e quindi le aziende nel loro complesso hanno subito questo caro gasolio. In più parliamo di due anni di pandemia, adesso la guerra e il settore primario, quindi l'agricoltura è stato uno dei settori che ha sofferto di più anche perché non ha avuto nessun indennizzo da parte del Governo centrale e soprattutto da parte del Governo regionale.